26.95% delle preferenze in Puglia con oltre 368.000 voti ricevuti. Sono questi i numeri ottenuti durante le ultime elezioni europee dai nuovi europarlamentari di Fratelli d'Italia, Chiara Gemma e Francesco Ventola. I due europarlamentari hanno incontrato a Bari i loro elettori per ringraziarli dopo il grande risultato ottenuto nella circoscrizione sud, illustrando un primo bilancio della loro esperienza a Bruxelles. Siamo all'inizio ma è positivo, già la campagna elettorale è stata positivissima, 20 giorni di campagna elettorale perché sono stato uno degli ultimi ad essere stato candidato e avere tanti consensi significa che si è seminato bene, si è avuto tanti amici, tante persone che hanno condiviso questo percorso. L'esperienza di sedere in quell'assise così importante da un punto di vista istituzionale per me che sono un innamoratissimo delle istituzioni è sicuramente un alto salto di qualità e spero, anzi sono certo, che non tragirò le attese. Chiara Gemma e Francesco Ventola hanno poi garantito che porteranno le istanze del sud e della Puglia nel Parlamento europeo. Rappresenteremo le loro istanze, la loro voce sarà una voce forte perché siamo veramente espressione dei nostri territori e c'è una diversità di competenze tra noi europarlamentari pugliesi che ci consentirà veramente di portare tutte le stanze del nostro territorio lì a Bruxelles.